Amici telespettori di TVQI, ho il piacere di presentarvi un illustre medico dell'Ausl di Modena per andare a toccare una tematica che riguarda molti di voi e molti di noi. In tante famiglie che ci ascoltano sappiamo come la gestione del malato non sia semplice e nella fattispecie la gestione del malato di Alzheimer o di demenze di vario genere è ancora più complessa e molti non sanno che ci sono tante possibilità di chiedere un aiuto, ci sono tante cose che vengono fatte da parte della nostra Ausl e da proprio per questo che a partire da domani se non vado errato, anzi da domenica, inizia la settimana dell'Alzheimer. Di questo e di tante iniziative che sono volte proprio nei vostri confronti per aiutarvi a comprendere al meglio quello che viene già fatto per le famiglie da parte dell'Ausl di Modena abbiamo chiamato qua con noi il dottor Andrea Fabbo che è il direttore dell'UOC cioè della geriatria e disturbi cognitivi e demenze dell'Ausl di Modena e di tutta la provincia che naturalmente segue tutta la provincia. Dottore buongiorno e benvenuto nei nostri studi. è un abitué, abitué della trasmissione 360 gradi di benessere dove l'avete già visto tante volte ma oggi viene a parlare proprio a voi di questa settimana che in realtà è un po' di più, sono 12 giorni di incontri, convegni, attività, concerti per ricordare che ogni giorno nella quotidianità delle nostre vite è dedicato alla cura e all'assistenza delle persone con malattie di Alzheimer e altre forme di demenza proprio perché c'è bisogno di far sapere alle famiglie che cosa viene fatto, vero dottore? Assolutamente sì, infatti l'idea della settimana Alzheimer è un'iniziativa di sensibilizzazione per portare il termine demenza in tutte le famiglie anche perché è un'iniziativa di grande sensibilizzazione che serve per combattere lo stigma cioè la paura e la vergogna legata alla malattia. È importante, è fondamentale, è importante è fondamentale perché normalmente cosa succede? Quando si verifica un caso di demenza sia la persona che si rende conto delle difficoltà tende a isolarsi, a non frequentare più i luoghi di aggregazione e non si vergogna, non si capisce cosa sta succedendo però questo non fa altro che aggravare la situazione aumentare l'isolamento e provocare un rapido peggioramento della malattia quindi noi contrastiamo questo. Noi diciamo sempre un motto collegato alla settimana Alzheimer che è quello di dire di demenza si deve parlare perché non se ne parla abbastanza anche se è una malattia diciamo che spaventa perché poi le demenze sono tantissime, più di cento malattie diverse di natura degenerativa, traumatico vascolare di cui la più frequente è l'Alzheimer. Non c'è ancora una cura, una cura specifica nel senso che non possiamo eliminarla però molto si può fare oggi per rallentare il decorso della malattia e far stare bene le persone e le famiglie che hanno questo tipo di problemi. E quindi parliamo davvero di aiutare nella quotidianità le famiglie con malati di Alzheimer e di demenza ed è una cosa fondamentale. Molti di voi non sanno che ci sono delle cose che si possono fare fatte dalla nostra house ed è proprio per questo che è importante che sappiate tutto questo. Tra l'altro lo slogan è bello, ogni giorno prendersi cura della persona con demenza. Non è un carico che dovete portare da solo, è un carico che potete condividere con noi. Assolutamente sì, è il motto della settimana ogni giorno e per dire guardate che noi ci siamo non è solo che nell'occasione della giornata dell'Alzheimer mondiale che è la giornata che è stata restituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ormai da 30 anni, il 21 settembre di ogni anno poi dopo 12 anni fa è stato restituito anche il mese Alzheimer perché veramente le iniziative sono tante ma noi vogliamo dire ogni giorno per dire che non aspettiamo solo la ricorrenza per parlare di questo argomento ma che ci siamo e che possiamo essere di supporto ai cittadini e alle famiglie su questi temi. Allora, ed è importante andarli a trovare e vengono, perché in questa settimana, in questi 12 giorni veramente si viene a toccare tutta la provincia, non solo Modena Città ma ad esempio domenica si parte da Carpi con una pedalata cicloamatoriale proprio perché in quell'occasione si può entrare in contatto ci sarete, mi immagino, tanti di voi che saranno a disposizione delle famiglie per parlare. Ci saremo sì, gli operatori della rete che è costituita dai centri disturbi cognitivi e demenze della provincia sono centri di diagnosi e cura che fanno la diagnosi ma si occupa anche di erogare cure farmacologiche non farmacologiche ma anche di sostenere il caregiver. Ecco, gli operatori dei sette centri disturbi cognitivi della provincia sono a disposizione le varie iniziative per poter dare informazioni, per spiegare cosa sono i servizi ma anche per iniziare a parlare dell'Alzheimer e della demenza in maniera meno drammatica proprio per evitare appunto lo stigma ed avvicinare le persone ad interessarsi. Noi possiamo dire sì, c'è una demenza, c'è un disturbo cognitivo ma anche col disturbo cognitivo puoi continuare a vivere bene se vengono fatte una serie di cose. Ad esempio, domenica mattina, voi che avete un problema in casa di questo genere abitate nella zona di Carpi, dico bene, andate all'ex forboario di via Algisi e li troverete naturalmente tutto lo staff del dottore, tutte le persone che vi potranno aiutare da questo punto di vista a parlare e a iniziare un rapporto. Assolutamente sì, anche l'associazione dei familiari, in quel caso a Carpi avremo il GAFA l'associazione dei familiari che si occupa di Alzheimer, che fa vari progetti insieme a noi dove potranno dare spiegazione e tutte le opportunità di supporto che ci possono essere per le persone e le famiglie. Il supporto può essere di vario tipo, di vario tipo, gestione dei problemi cognitivi, comportamentali, possibilità di attivare i servizi che abbiamo in provincia, possibilità di sostegno anche di tipo psicologico per alleviare i problemi legati alla malattia. Non solo sulla comunicazione tra famiglie e pazienti e AUS è centrata questa settimana, ma ci sono anche dei convegni. Che è l'importanza di questi convegni? L'importanza dei convegni è per fare il punto non solo di quanto si sta facendo all'ambito della ricerca, ma anche di quanto stiamo facendo a livello provinciale e nazionale su questo tema. Per esempio il convegno che inizierà lunedì a Modena il 18 all'auditorio Marco Biagi parleremo di un tema molto importante perché si occupa di demenza che riguarda l'autodeterminazione delle cure. Infatti il convegno si chiama Per me decido io e li parleremo di direttive anticipate, di consenso informato, di competenze e di capacità con giuristi e con esperti del settore. Quindi affronteremo la malattia da vari punti di vista. E quindi anche i problemi che vi parliate tra di voi e naturalmente sempre di più migliorare sotto tanti aspetti. Poi vi dico, marzo di 19 ci sarà un evento a Castelfranco Emilia, alla sera a Mirandola alle 18 una camminata, mercoledì 20 e giovedì 21 ancora appuntamenti a Carpi, a Nonantola, San Prospero, Pavullo, San Cesario, Formigine, San Felice, Savignano. E' importante l'appuntamento di domenica con la camminata di Modena, domenica 24 di settembre. So che ci tenete tanto a questa camminata. Sì, la camminata che facciamo insieme con la medicina dello sport e varie associazioni che si occupano di sport. Perché insistiamo sul tema della promozione dell'attività fisica. L'attività fisica è un'attività che contribuisce alla prevenzione di tante malattie, ma in modo particolare dell'Alzheimer e della demenza. Perché tra l'altra, la vera grossa sfida, abbiamo detto non abbiamo cure, ma la demenza oggi si può prevenire mettendo in atto una serie di attività, come l'attività fisica, promozione dell'attività fisica, contrasto all'isolamento sociale, controllo del diabete, fattori di rischio vascolari, controllo dietetico e nutrizionale. Quindi è legato al tema degli stili di vita. Io posso rallentare l'evoluzione della malattia se faccio queste cose, ovviamente iniziando molto tempo. Quindi l'obiettivo proprio della camminata Alzheimer del 24 è quello di promuovere, di promuovere sul tema dell'attività fisica, che è molto importante anche in questo ambito. Quindi conveni, quindi attività fisica, quindi spettacoli. Spettacoli. Spettacoli, cioè non dialettale tra l'altro. Assolutamente sì, faremo uno spettacolo dialettale a Mirandola. Un altro spettacolo invece ci sarà al Teatro San Carlo, con il tema delle palestre della memoria. Ed è uno spettacolo che l'azienda ASL organizza per ringraziare i tanti volontari che partecipano all'organizzazione delle palestre della memoria. Le palestre della memoria sono luoghi di aggregazione, dove vanno persone a rischio di problemi cognitivi, o che iniziano a avere problemi cognitivi, che sono gestite da volontari. E quindi col concerto, il concerto di ARPE, che faremo il 19 settembre, vogliamo ringraziare i più di 300 volontari che nella provincia di Modena fanno questa attività di socializzazione e stimolazione cognitiva, appunto chiamate palestre della memoria, per le persone che hanno questo tipo di problema. Possiamo anche dare il giusto onore a tutti i volontari. Noi vi abbiamo dato alcune date, ne avete viste anche nella sovraimpressione mandata nel nostro Fabio con tutta la locandina, ma nello specifico, se volete sapere di più, www.aust.mo.it e fin qua tutto nella norma, è il sito dell'Aus, poi fate lo slash e poi c'è iscrivete demenza. Lì trovate tutto il programma di questa settimana abbondante dedicata appunto all'Alzheimer. C'è un'altra cosa che vuole sottolineare, dottor? Sì, anche in tanti due eventi scientifici importanti, l'evento scientifico che faremo il 22 pomeriggio, sempre a Modena, all'Università, all'Aula Magna del Policlinico, dove si parlerà dei progressi della ricerca e delle possibilità che avremo quando forse usciranno i nuovi farmaci, ma vogliamo solo dare una restituzione ai cittadini di quello che la ricerca sta facendo su questo ambito, che apre delle speranze. E l'altro importante convegno lo faremo invece all'auditorium Marco Biagi sul tema della gestione della demenza con i problemi comportamentali ed è una cosa che faremo per gli operatori. Verrà un geriatra canadese famosissimo, Alan Power, verrà a Modena, e ha scritto un libro bellissimo che si chiama Dementia Beyond Disease, cioè la demenza oltre alla malattia, imparare a vedere la persona con demenza come persona e non come malato. E quindi questo cambia proprio l'approccio alla gestione dei problemi. di lasciarla ai suoi tanti impegni le racconto i due messaggi che useranno da casa. La prima, l'amica Tina di Grizzana Morandi, che sottolinea quanto sia importante il sostegno psicologico per il familiare. Assolutamente. E che quindi sia una tematica per queste patologie, per lei, importantissima. Ah no, di parla, è una cosa che facciamo invece noi. Ogni pomeriggio deve sapere, dottore, noi facciamo un gioco enigmistico dedicato al nostro pubblico, tra cui ci sono tante persone appunto di una certa età, e gli costringiamo a usare le cellule grigie, come diceva il buon Ercule Puoro tanti anni fa, e parogliare. Cioè io gli do dieci lettere e li costringo con quelle dieci lettere a formare delle parole. Un po' alla volta la nostra comunità si è allargata tantissimo. Dalla prima ci giocavano un pochettino, poi sempre di più, poi sempre di più, poi sempre di più. Io gli chiedo di non usare i cellulari per il gioco facile, ma di provare proprio... Questa è un'attività di stimolazione cognitiva che sta facendo, ed è un'attività che serve. Che serve, è vero. Assolutamente. Anche noi, in piccola parte, in qualche modo, cerchiamo di, con una stimolazione cognitiva, come dice appunto il dottore, di dare un aiuto. Perché questo serve. Anche la persona che sta iniziando a perdere qualcosa, se allena la memoria, le facoltà mentali, il rallentamento, il rallentamento è più evidente, e quindi alcune manifestazioni possono essere controllate. Vede, dottore, nel nostro piccolo anche noi complimenti. Diamo una mano. Mi raccomando, dal 17 al 28 settembre, la settimana dell'Alzheimer, su tutta la provincia di Monna, avete modo e maniera, se avete questa problematica, di andare verso l'Aust, di parlare con loro e di farvi aiutare. Assolutamente sì. Perché c'è la possibilità. Assolutamente sì. Grazie a voi. Ottima iniziativa e perché davvero possiate continuare a essere di fianco le nostre famiglie. Grazie mille. Grazie a voi.